Sottisfare le esigenze dei cittadini, in tutto e per tutto, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'allegatità. E Anna Palombi, la nuova padrona di casa del Palazzo del Governo Aretino, succede a Clara Vaccaro, il prefetto che qua ha gestito per più tempo l'accoglienza di migranti al momento soprattutto del picco degli arrivi. Adesso il fenomeno è in netto calo, in provincia ce ne sono 985 e siamo dunque scesi sotto la soglia dei mille. Ma il vero pallino del nuovo prefetto e il controllo del territorio, nonostante la carenza di uomini e mezzi, vuole assicurare a questa città e non solo una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Anche noi siamo sotto organico, però io purtroppo chiederò un impegno a loro. Perché io sono così, voglio dire, io ho voglia di fare tutto e cercare, ce la metto tutta, per cui anche gli altri devono impegnarsi e spero che riusciamo per far sentire soprattutto i cittadini a vivere serenamente. Il nuovo prefetto ha anche annunciato che subito dopo il mese di agosto farà il giro di tutti i comuni della provincia per stringere sempre una maggiore e proficua collaborazione con i primi cittadini di questo territorio.